Pronti? Va beh, se siamo in questa piazza siamo sicuri che oggi è crasi, è custosi in Catalogna specialmente in Barcellona si accade una partita che è scusa nostra, cioè se venghiamo questa partita potremo vengare questa partita quindi è chiaro che l'impegno adesso l'indipendentista Sardone deve essere a suo massimo, deve essere in queste piazze ma pure in informazione, in internet in Don Zilocco noi dobbiamo fare che scomprendere chi fa un cambiamento epocale, cioè la Catalogna è spiegando il genere storico di cambiare l'istoria di Sardone cioè non per usare un rapporto tra i Stati basato sulla convenia economica e sulla convenia imperialista di conservare nel territorio che non sono i soldi come in te appunto in Spagna, chi mantiene legata l'intro di una preione sia se a Catalogna, Paesi baschi e così via sia se a una tessicosa, l'Italia, l'Avranza, chi è in uno diritto derivato, chi è in posto in questa costituzione solo cioè chi dichiara tra l'Avranza, l'Italia, territorio nazionale indivisibile ma questo non è uno diritto, questo è un'imposizione, quindi non potete pettire a questa Catalogna di rispettare una costituzione che non è sua e che non è manco una costituzione delle sue umanità che ha la supercostituzione che parte dal suo diritto primigeno, primario, possedito da 11 persone e da 11 collettività chi narata, chi sul territorio suo, cada collettività è soverana se a Catalogna ha il suo territorio catalano deciditi quindi non è andato contro una legge cosa non è una legge, cosa è una crae di una preione quindi la costituzione spagnola è una sbarra una serie di sbarra che impedine a uno popolo come è la Catalogna, deve essere catalano il suo mondo che non è vero che la Catalogna la Sardegna si chiede nel liberare però si isolare dal suo mondo no, no, noi se non chiediamo il liberare può entrare il suo mondo che come non bisogna non bisogna in Europa non bisogna il suo mondo mentre la collettività del metafol minore tipo Malta, Cipro e tante altre sono i miei ma non solo sono il suo Parlamento europeo come anche Maltese come anche Cipriota certo, perché i seracchi dei partiti italiani sono messi pure il suo Parlamento europeo ma non a rappresentare noi a rappresentare il PD a rappresentare il 5 Stelle a rappresentare lo Sardegna che non fa nessuno ecco qui in queste qui poi è indipendenza che è una liberazione e libertà e democrazia anzi l'Europa e il suo mondo non deve ringraziare che noi stiamo scominciando un'altra base che pone in archivio questo stato crescito di questo ticento sul colonialismo e dell'imperialismo poi questa base è finita bisogna detancare con questa base storica ringraziamoci a Catalogna che si spiegano veramente tutte le zone che si rischiano e di essere soggetti a una repressione franchista che noi che non potete andare a finire quindi le torniamo grazie veramente che non resta bene questa libertà a tutti i popoli che non lo sappiamo compresi impediti e che sono autodichiarati indivisibili indivisibili l'articolo Kimber di questa costituzione italiana e non mi pare non mi pare che questo è l'articolo che riguarda la costituzione spagnola ma questo esempio è sumatissimo bene noi abbiamo essere indipendentisti santo in terra nostra in Sardegna a sostegno dei catalani ma pure ci sono necessità in terra e solo e lo sardo lo hanno dimostrato e su 1717 1717 1717 Dino Giacobbe ha comandato una brigata internazionale la 54esima brigata internazionale che si presenta la guerra di Spagna guardate bene che è l'unica brigata di una nazione che non si è stato cioè questo è nato che cosa è la bandiera che è la bandiera che è la bandiera di Sardegna e a difendere che in una batteria del camion che hanno segnato che hanno visto in cui una questione politica che non ha limitato META Dino Giacobbe però la volontà è stata di andare a guerra per la libertà del popolo catalano e in questo caso pure a liberare la Spagna dal suo branchismo bene noi siamo su Sardegno come hanno fatto su Sardegno noi siamo pronti in questo caso l'indipendenza non è al di là da venire l'indipendenza è all'ordine del giorno è l'agenda mondiale è l'agenda mondiale la Palestina è l'agenda mondiale la Cecenia è l'agenda mondiale su Tibet è l'agenda mondiale su Kurdistan è l'agenda europea vediamo tutto noi per la Catalogna per la Scozia per i Paesi baschi per la Corsica vediamo tutto quanto l'indipendenza è l'agenda questione di e non pensiamo neanche che sia una questione economica cioè non vi lasciamo un po' nel rinco la Catalogna si vuole liberare ma no noi scriveremo questa parte più poca non scriveremo liberare non è questo problema non è questo problema la libertà ha valore è incredibile e può compendere quanto valore ha la libertà basta dicere una domanda l'indipendenza che è disposto a rinunziare a sin dipendenza in cambio dei dinari l'Italia rinuncia a sin dipendenza 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 ecco dimostrato che no è una questione finanziaria